sono qua sulla statale 34 del lago maggiore in questo caso sullo spot dove vado a far surf e ci sono queste qui che sono le case cantoniera cantoniera come si dice e sono completamente abbandonate guardate e esse sono molto 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 belle perché allora quest'altro lato con la porta completamente aperta e qua è completamente allo stato di abbandono ed è un posto incredibile guardate è pazzesco qua c'è la cucina con una vista che a dir poco impareggiabile qua c'è un altro locale pavoloso l'immobile non è poi in uno stato così terribile qua c'è il bagno non è messa così male ed è veramente un peccato dovrebbe comprarla